Alessandro Siani! Buongiorno a tutti! Buongiorno! Io la domanda subito, siccome il film è in 360 sale in Italia ed è un film molto divertente per tutta la famiglia ci potete portare anche nonno, i bambini, è un film che tutti possono vedere perché la cifra di Alessandro che è partita... Allora, vi dico una cosa perché Alessandro questa cosa non la sa io conosco Alessandro Siani dal 2003 lui non conosce me dal 2003 ma io lo conosco perché durante una vacanza in Cilento sono andata a vedere un tuo spettacolo, uno spettacolo in piazza era l'estate del 2004, forse 2005 e Alessandro Siani era molto ruvido il suo modo di fare spettacolo era tagliente, satira, cinismo, c'era un po' di tutto te lo ricordi lo spettacolo vent'anni fa tu Alessandro? Oggi penso che non lo potrei fare era proprio questo, ma io non so se tu ti ricordi come eri forte, no? ma sì, prima il comico poteva essere riverente poteva dire tutto quello che la gente non poteva dire ma magari pensava oggi invece il comico non può dire niente invece sui social dicono tutto e il contrario di tutto quindi il prossimo spettacolo devo fare sui social come sta la situazione che è una vera piazza, quella è una vera piazza ma non so se tu ti ricordi vent'anni fa com'eri e come sei diventato lui adesso ha una penna leggerissima e all'epoca vent'anni fa era un maglio proprio pesante sì, praticamente era più o meno così buongiorno frate, tappos magari Anna Bettine mi si fotto mi si fotto quasi ci offriva tutto così era così ma non avresti detto forte avresti detto una parola un po' diversa poi Alessandro è cresciuto ed è cambiato come dicevo prima ha una penna molto leggera tutti i suoi film hanno questa vena di poesia che aveva Alessandro però aveva scelto una strada questo è bellissimo perché nella carriera poi le cose cambiano si cresce e ci si trova e ci si confronta con elementi diversi ma se ti rende sempre conto di una cosa cerchi sempre qualche vuoto da colmare allora quando senti l'esigenza di fare un film più romantico tu pensa che Il Principe Abusivo nasce come film romantico non un film comico e volevo raccontare la storia di un ragazzetto che aveva delle difficoltà economiche che si innamorava di una principessa una favola vera e propria però quello ha scatenato un meccanismo comico però io volevo raccontare la parte romantica dell'amore e il sentimento Buona Luna così si davano la buona notte e buona luna nel film perché secondo me ci manca ma anche dall'America mancano ormai quei film romantici che erano meravigliosi Henry ti presento Sally la grande commedia americana quattro matrimoni e un funerale sono i film che comunque ne siamo cresciuti però quel genere purtroppo non è più in voga come purtroppo sta accadendo con i film comici cioè è un genere che adesso diciamo e quindi ritornare in sala quest'anno con l'energia di quel ragazzetto di vent'anni fa con l'entusiasmo di quel ragazzetto di vent'anni fa e di osare di portare in sala un film comico si dice in questi casi comico puro per me è stata una grande gioia e quindi lo sai perché tu fai parte di quella generazione che sei sempre un po' controcorrente che vai contro vento e segui sempre ma guarda Alessandro tu hai fatto un film coraggioso perché è un film comico puro in realtà stamattina leggevo sui giornali americani che hanno ammazzato il cine panettone ci hanno trattato come se fossimo dei sottosviluppati e questo ci dà molto fastidio perché poi il cine panettone fa parte della nostra storia ci hanno trattato come volgari c'è un articolo veramente orrendo che massacra il cinema italiano il cinema italiano ha bisogno di idee mi sembra che nel nuovo film di Alessandro in cui purtroppo lo dico purtroppo ha ragion veduta c'è anche Sergio sì infatti infatti voglio dire è un cine capitone siamo arrivati nella fase perché capito il ragazzo squizza il cine capitone vabbè noi siamo un'ora insieme abbiamo tante cose a dire su questo film ma tu mi devi dire quanti ciacca hai dovuto fare nelle scene di Sergio perché il problema di Sergio è che si ride perché lui è comico involontariamente esatto il problema di Sergio è quello guarda che hai detto una bella frase questo è comico involontario ma lo so cioè questo non si rende conto che fa ridere quando non dovrebbe far ridere quando dovrebbe far ridere non far ridere e me lo conosco bene è una cosa veramente ma parlate di un film ma parlate di in generale di cinema io volevo ho ripescato una piccola clip da uno spettacolo di Alessandro che mi fa molto ridere e che riguarda il Natale sentite un po' beh devo dire una cosa che però a Natale l'unica cosa che ci accomuna amici miei sono i regali a me ci hanno fatto una bazzita la ragazza quando vado a un regalo a Natale non è che per esempio a guaglione tu fa capire un regalo che vuoi tu dici proprio cioè la donna più o meno fa così fa ti giuro la mia amica ha regalato un punto luce che fa talmente di quella luce ma talmente di quella luce che quando metto pari in distanza e letto sono un po' contatore questo di quant'è questo spettacolo qua stiamo parlando della storia perché questo è lo spettacolo fiesta lo spettacolo che comunque mi ha cambiato la vita è uno spettacolo che per la prima volta fu messo proprio in scena il periodo di Natale raccontava tutte le feste natalizie molto divertente molto divertente lo trovate su youtube scusami se do una dritta e lì praticamente raccontavo il Natale tutte le sue sfaccettature mi ricordo che parlava dell'albero di Natale in quello spettacolo e dicevo l'albero di Natale tutti lo vogliono fare e nessuno lo vuole smontare quest'anno siamo arrivati a marzo ancora con l'albero di Natale in mezzo alla casa ho detto mamma come profumano queste palline mi disse non solo le palline sono spuntati mandarin sandrosiani con il film succede anche nelle migliori famiglie io vorrei però richiamarti Sergio perché secondo me se Anna mi permette tu hai pubblicizzato poco questo film io non vorrei fare polemica però a me è parso così mi sembra un po' che lo stai trattando male no ma una roba da quando no da prima che uscisse che lo dice lui non dice più queste rds Anna Sergio dice succede nelle migliori famiglie e ormai è così pensa che ieri uno in sala voleva vedere rds sei confuso ho ascoltato tutto il giorno in radio succede anche nelle migliori famiglie adesso vado in sala a vedere rds si sta creando una confusione allora prima di parlare del film io ho fatto una ricerca e ho trovato una montagna di battute molto belle e c'è non so se ti ricordi questa perché le donne sono strepitose sono eccezionali soprattutto la donna del sud te ne sembra così qualsiasi cosa la donna del sud tu da sempre giù per esempio il corno ti abbuffo succede il migliori famiglie è una storia di una famiglia lo dice proprio il titolo che si trova tra fratelli e beghe la famiglia di rinzo tra beghe corna e anche voglio dire il racconto un po' di tutti perché chi è che non si è mai sentito un po' al di sotto di un fratello oppure si è sentito in imbarazzo davanti a un fratello una sorella laureata lui è l'ignorantone della famiglia in teoria lui è la pecora nera io sono la pecora nera della famiglia è una famiglia strepitosa mio padre è un medico amato da tutti mia sorella è una psicologa di successo mio fratello è un grande avvocato io invece che volevo seguire le urme di mio padre invece non ci riesco combino solamente i disastri nel campo della medicina e della sanità poi ci sta un evento che cambierà tutto e Sergio che a un certo punto arriva prepotentemente un amico di famiglia non possiamo svelare molto non possiamo dire molto perché sennò parleremo troppo della trama però devo dire che non so come sei riuscito a far rimettere quella canottiera bianca guarda io vorrei fare una cosa se è possibile che non è preparata però vorrei che se a Sergio fa piacere parlare di questo film succede anche nelle migliori famiglie se ci dà un extra diciamo del film quella dei ah sì cioè non la so questa ottesimo allora praticamente c'è Sergio che praticamente sta raccontando la sua storia d'amore e come si è conosciuto con la sua era un giorno d'estate a un certo punto era affacciato dove abitava lei all'ottesimo piano all'ottesimo sotto il novesimo il novesimo ecco qua e qua viene il Sergio e a un certo punto siamo andati tutto a scende che ci andavamo a fare il bagno siamo stati tutti i giorni a parlare romanticamente siamo usciti alla sette di sera me la ricordo aveva tutti i pipistrelli agrippati i pipistrelli agrippati Sergio Friscia extra raccontaci invece Alessandro com'è lavorare con Sergio perché io prima l'ho accennato quanti ciac perché poi ridi a un certo punto nel senso guarda che è più pericoloso lui sì ma quante volte esce fuori copione allora diciamoci la verità tutta la verità nient'altro nient'altro è la verità sarebbe la falsità allora era inutile fare questa premessa allora Sergio è un attore strepitoso io ho avuto la possibilità di lavorare con dei grandi che sono De Sica Claudio Bisio Diego Abbatantuono ma lo stesso Fabio De Luigi Fabiolone Max Tortora e devo dire che Sergio fa parte assolutamente di questa razza di comici di fuoriclasse che comunque riesce sempre a trovare la chiave comica ma anche però a dare credibilità al personaggio quindi è stata veramente per me una scoperta meravigliosa poi per quanto riguarda invece il suo metodo il metodo proprio Frischowski cioè un metodo che ha inventato lui fa un casino esagerato fin quando tu non dici la mitica frase lo dico alla pettinelli eh lo dico alla pettinelli e da lì e da lì un attore diventa al pacino quando sento quella frase mi nominate anche quando non ci sono però perché Sergio mi dice devo studiare perché il problema per Sergio è fare la memoria però ti posso dire che non potevo avere compagno di giochi migliori di lui perché guarda ogni giorno arrivava sul set e spiazzava tutti e abbiamo visto facce come Dino a Brescia insomma mi piace molto improvvisare mi piace molto improvvisare scena mi piace molto anche la freschezza del copione che puoi sempre aggiungere delle cose e quindi Sergio su questo sguazzava fatto sta che comunque ma avete sforato il budget per rifare le scene solo di mensa solo di mensa posso dire una cosa seria una cosa seria tu lo vedi così però ha un grande cuore e una grande sensibilità perché lavorare con altri comici e avere la genialità di lasciare veramente spazio cioè lui è anche psicologo a tutti quanti dirigere questa orchestra fatta di tanti elementi diversi e riuscire a entrare nella mente di ognuno per fargli rendere il massimo che si può e questo fanno i grandi registri ci vuole un grande cuore anche una grande sensibilità e lui ce l'ha lui il cuore che non ti ha fatto pagare tutti gli extra del tuo ristorante no ma la cosa bella è successa una cosa che credo lui ha fatto un mare di film più di me non è mai successa cioè quando qualcuno non girava era libero andava sul set comunque a vedere gli altri che giravano perché ha unito veramente siamo diventati una famiglia vera e propria per quanto riguarda la memoria Sergio devo dire delle volte dei problemini l'unico problema più grande è che non si ricordava mai il mio nome mi chiamava Pasquale questo per il resto Pasquale dove mi devo mettere Pasquale ma non è che hai problemi di memoria Sergio ma guarda Pasquale chissà se li ritroveremo insieme insomma a me sembra che una coppia sia un po' formata ecco questo fa paura questo fa paura Sergio Friscia guarda non si può dividere potremmo essere dei fratelli sianesi questo sì però devo dire i fratelli pettinelli suona meglio voi fate il cinema io faccio altro poi se mi volete fare una comparsata io vengo figurati tenitemi presente vieni subito a vedere in sala il cinema che poi ti interrogo a saltare va bene succede anche ai migliori famiglie Dina Brescia da Capotondi per la regia di Alessandro Siani con l'amichevole partecipazione perché non l'ha pagato questo lo sappiamo ha pagato Sergio per fare il film perché in tutte le sale ed è veramente un film molto divertente grazie Alio di essere venuto e di essere stato con noi vi voglio bene grazie consentitemi semplicemente 30 secondi 30 minuti anzi 3 per dire buon anno a tutti salute e tante risate e dai ciao Alessandro e alla prossima ciao 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 ciao